Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi abbiamo alcuni argomenti di discussione veramente calienti, bollenti, partendo da quello che è successo ieri sera. E cioè, Douglas Lewis è arrivato per la prima volta nella sua vita a Torino da giocatore della Juventus. È stato pubblicato, anche postato sui social network della Juventus e ovviamente, oh, l'avreste mai immaginato, da lì si è scatenata la polemica, tanto per cambiare, perché sono delle novità le polemiche intorno alla Juventus. La polemica di questi giorni è troppi pochi tifosi ad accogliere Douglas Lewis. In contrapposizione invece ai tanti tifosi al bagno di folla che ha ricevuto Mati Sule una volta sbarcato a Roma. Ora, io credo che ogni squadra abbia un certo tipo di approccio da parte della tifoseria. Non significa che la tifoseria della Juventus sia più fredda rispetto a quella della Roma e non si tratta nemmeno di una competizione, di una gara, non c'è un termometro che misura questa cosa qui. L'affetto viene dimostrato in mille modi differenti. Non significa nulla che da un certo punto di vista ci siano tanti tifosi ad accogliere dall'altro meno. Anche perché stiamo parlando di un giocatore che è stato acquistato dalla Juventus oltre un mese fa ormai praticamente. Ha dovuto terminare la Coppa America con il Brasile, fare le ferie e poi è arrivato a Torino. C'era anche decisamente meno hype rispetto al Colpo Sule che invece è stata una trattativa conclusa proprio nelle ultimissime ore e per il quale non c'è ancora l'annuncio ufficiale che stava arrivando a Roma. Insomma, sono anche due concetti abbastanza differenti. Io non so perché si debba criticare il tifoso della Roma che va a urlare per la Rio di Sule o criticare il tifoso juventino che non va ad accogliere Douglas Lewis. Veramente sono delle cose che mi lasciano abbastanza basito, però è sempre giusto evidenziarle. E al J Medical stamattina, alla continassa per le visite mediche, si sono riviste anche alcune facce vecchie conosciute oltre a quelle di Douglas Lewis, quella di Bremer, quella di Danilo, quella di Yildiz, tutti i giocatori pronti ad aggregarsi alla prima squadra, anche giustamente perché al 30 di luglio possono considerarsi assolutamente terminate le vacanze per i giocatori della Juventus. Il gruppo squadra è al completo, sono rientrati i nazionali. Ora la testa deve essere focalizzata non alle prossime amichevoli, bensì a Juventus como. E le amichevoli servono per arrivare pronti al meglio a quell'appuntamento lì. Abbiamo una news di servizio, l'avrete visto sicuramente sui social network della Juventus, ma oggi è stata annunciata, rivelata anche la seconda maglia da gara, quella away. Colori sociali della città di Torino, quindi giallo e blu, con anche dei riferimenti in rosa, che comunque è un colore storico associato alla Juventus, la tematica è quella del cosmo. Vi dico la verità, a me piace decisamente di più la prima maglia rispetto a questa seconda. Quando avevo visto semplicemente il render della maglia, non mi era piaciuta tantissimo, indossata non è nemmeno così terrificante, invece come mi sembrava ad una prima occhiata, indossata sicuramente è più carina. Indossata ovviamente dai calciatori da Juventus, se dovesse indossarla io sarebbe veramente un disastro, andremmo a rovinare invece una maglia. Quindi fateci sapere, anzi fatemi perché sono da solo, fatemi sapere qui sotto nei commenti, se anche voi avete avuto questa impressione di differenza di maglia indossata, oppure no, e soprattutto se vi piace, perché questa sarà una delle maglie che ci accompagnerà per tutta la stagione. In attesa della terza quella invece è molto bella, molto interessante, anche se diversa da come me l'aspettavo all'inizio, però quella lì la sto veramente attendendo con tutto me stesso, non vedo l'ora di vedere come sarà quella indossata. Mamma mia, quella lì deve essere veramente una bomba giù di testa. Allora ragazzi, ieri sono venute fuori un po' di indiscrezioni non proprio positive. Eh sì, è successo. Abbiamo i primi infortuni della stagione. E qualcuno dirà, vabbè dai, durante la preparazione normale, che ne mettendo in moto i muscoli che sono stati fermi durante l'estate, o sono stati un pochettino più lasciati da parte dall'allenamento, possa succedere qualcosa. Invece no, perché abbiamo il primo infortunio della stagione ed è un trauma. Ma stiamo parlando di Miretti, trauma al piede destro in allenamento negli giorni scorsi, che si traduce in una frattura del terzo cuneiforme. Cosa significa questa cosa? Che Miretti sarà rivalutato sicuramente nelle prossime settimane. Però è out per circa un mese. Ecco, significa che si perderà non solo le prossime amichevoli, ma anche almeno la prima partita ufficiale della stagione, poi vedremo se sarà disponibile per quelle successive. Non proprio la cosa migliore del mondo, devo essere onesto, devo essere sincero, anche perché Miretti in questo momento viene visto come il tappabuchi in attesa di Cobb Mainers, quindi non so se questo infortunio darà la possibilità all'Aventus di accelerare sul fronte Cobb Mainers, perché ci sarà necessità di inserire un giocatore in quella posizione, anche se Tiago Motta ha detto che lì potrebbe giocarsi proprio lo stesso Douglas Lewis, quindi attenzione che potremo vedere anche lui in quella posizione. Però si sbloccano anche un pochettino le quotazioni di Astic, che abbiamo visto già appunto l'altro giorno ricoprire quella posizione lì. È un giocatore che a Tiago Motta sembra essere piaciuto abbastanza durante queste prime fasi di allenamento, di ritiro. È un giocatore che è stato preso per la next gen, ma ha buone possibilità di rimanere aggregato alla prima squadra durante l'anno. E secondo me la scelta del numero 17 non è casuale, solitamente un giocatore che poi va a giocare in next gen non sceglie un numero del genere, sceglie un numero 35, 36, 43, numeri di questo tipo, per poi l'anno successivo dovesse rimanere in pianta stabile in prima squadra, andarsi a scegliere invece un numero più normale di quelli più vicini a quelli che compongono una rosa dall'1 al 24, una roba del genere. Quindi attenzione che Astic secondo me può essere un nome interessante, un giocatore che potrebbe essere abbastanza esplosivo durante questa stagione. Sicuramente ora negli amichevoli avrà un po' più di spazio per via degli infortuni di Miretti, al quale va un grosso in bocca al lupo e un pronto recupero, un presto recupero, anche perché di Miretti si era parlato anche potenzialmente in uscita, in prestito, e vedremo se ci saranno delle squadre interessate o se questo infortunio andrà un po' a bloccare le trattative, quindi i piani anche della Juventus, che potrebbe anche semplicemente decidere di tenerlo. Vorrei essere una mosca, grande così, piccolo così, per poter volare in giro per la continassa e posarmi sul campo d'allenamento, per ascoltare quello che si sono detti Federico Chiesa e Tiago Motta durante le prime ore di colloquio, di comunicazione, di allenamenti, semplicemente di lavoro insieme, perché vorrei capire se ci possono essere i margini per ricucire questo strappo o se invece Federico Chiesa sarà destinato assolutamente alla cessione, se ci possono essere delle minime possibilità di rinnovo. Perché vi dico questo? Perché abbiamo parlato mille volte della questione Chiesa, su lei è già andato, Chiesa invece ancora qui, vedremo che cosa succederà. Però, secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe pronta a un'offerta da recapitare al Borussia Dortmund per Adeyemi, che è un giocatore che abbiamo già discusso nelle giornate precedenti. Io ribadisco, a me Adeyemi piace, è un giocatore che mi piacerebbe avere il rosa, però secondo me va sempre valutato all'interno del contesto giusto, perché allora possiamo prendere qualsiasi giocatore sulla faccia della terra, pagarla a qualsiasi cifra e poi dargli uno status di un certo tipo. Io credo che Adeyemi non sia un giocatore per il quale Adeyemi deve andare ad investire una gran parte del budget e da considerare titolare inamovibile, anche perché ha diverse problematiche fisiche ed è un giocatore che, sì, dal punto di vista della fisicità, quindi della corsa, della velocità, dello spunto, dello scatto, è, secondo me, micidiale, fenomenale, sarebbe un'arma davvero indispensabile, anche di quella partita in corso che ti permetta di sbloccare determinate situazioni, però è un giocatore che deve anche fare i conti con una vena realizzativa abbastanza scarsa e un'esperienza al Borussia Dortmund culminata, sì, con una finale di Champions, ma dove è un giocatore che viene ancora visto come abbastanza da sgrezzare. Quindi per me è un talento che ci sta, è un giocatore che mi piacerebbe avere in rosa, ma non nell'11 titolare e soprattutto non a 35 milioni di euro più 10 di bonus di quei 5 facili e 5 difficili. Quindi vi dico proprio la verità, cedere sulle, alle cifre che abbiamo letto, che verranno ufficializzate a breve, per andare a prendere ad Iemi a queste cifre e magari allo stesso tempo cedere pure Chiesa a delle cifre relativamente basse, sempre fiducia in giunto, l'intiago motta in quello che stanno facendo nel lavoro, nel progetto, in quello che hanno in testa, indubbiamente, però questa questione esterna mi fa quanto meno dire ma la stiamo gestendo nella miglior maniera possibile, cioè cedere sulle e Chiesa ipoteticamente per il solo ad Iemi, perché se poi andiamo a fare i conti dal punto di vista economico, non dico che andiamo a coprire, ma se Chiesa davvero poi vale 20 milioni, siamo lì, siamo lì con la Juve che poi deve tornare comunque sul mercato per farne un altro, perché poi ne ha necessità proprio numerica, quindi avrebbe senso cedere sia Chiesa che per il solo ad Iemi? Per me no, sono onesto, per me no, e la questione esterni, lo dico da un po', è una situazione che in questo momento mi sta preoccupando e non poco. Poi se la Juventus può permettersi di fare questo colpo e poi farne anche un altro per avere ad Iemi non come titolare, allora io alzo le mani, ma il mio timore, la mia paura, la mia preoccupazione proprio pura, è che la Juventus con questo tipo di trattativa andrà semplicemente a prendere un giocatore che sarà poi un titolare, perché la Juve oggi queste cifre difficilmente le potrebbe spendere per un giocatore che non è titolare, quindi o si trovava secondo me l'incastro delle ottime condizioni economiche o era una trattativa particolarmente rischiosa, anche perché sugli esterni dobbiamo cercare di fare un po' un ragionamento a 360 gradi per capire se poi siamo pronti a gestire un campionato, una Champions League, una supercoppa italiana, un mondiale per club, con questa composizione esterna e con la De Iemi che comunque ha una cartella clinica, una storia clinica particolare con tanti problemi alle spalle. Non lo so, questa cosa un po' mi preoccupa, devo essere onesto, mi sembra una cifra molto alta fuori mercato, posso capire che queste possono essere richieste del Borussia, ma che la Juve vada a offrire effettivamente quelle cifre veramente un po' mi farebbe paura, maggior ragione se poi devo cedere anche Chiesa per arrivare alla conclusione di questa trattativa. Ma fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, abbiamo toccato diverse tematiche e tante altre toccheremo oggi in live nel pomeriggio qui sul canale YouTube. Ciao a tutti.